Il Meteo è presentato da Ristorante da Kieragas, con monta e risparmio siamo aperti tutto l'anno! Un saluto e ben ritrovati all'appuntamento con il Meteo. Anche in questo fine settimana le ennesime correnti umidi e instabili provenienti dal nord atlantico faranno il loro ingresso nel bacino del Mediterraneo in un contesto debolmente ciclonico e che determinerà ancora condizioni di diffusa variabilità sul nostro territorio. Quindi per la giornata di venerdì avremo un cielo variabile o parzialmente nuvoloso anche se durante il corso della giornata si potranno avere diffusi annuvolamenti cumuliformi associati a rovesci e locali temporali. I venti saranno deboli localmente moderati dai quadranti meridionali collocare gli inforti da est, sud-est e sulle aree costiere. Il mare risulterà poco mosso e localmente mosso. Per venerdì le temperature saranno stazionari e con massime in pianura comprese tra i 20 e i 22 gradi. Per la giornata di sabato la temporanea attenuazione delle correnti umidi e instabili favorirà condizioni di tempo più soleggiato quindi avremo un cielo poco nuvoloso o al più variabile durante le ore pomeridiane specie sulle aree interne appenniniche. I venti saranno deboli o localmente moderati da sud-sud-ovest con locali rinforzi nelle aree interne e il mare risulterà poco mosso. Per sabato le temperature saranno in lieve caldo nei valori minimi e in graduale aumento nei valori massimi che sulle aree pianeggianti interne potranno raggiungere anche i 25-26 gradi. Infine per la giornata di domenica il transito di un nuovo impulso instabile nel pomeriggio favorirà nuove condizioni di instabilità, quindi al mattino avremo un cielo poco nuvoloso variabile ma dal tardo mattino nel corso del pomeriggio assisteremo ad un aumento delle nubi ed iniziare dai settori appendinici dove si potranno verificare rovesci locali temporali in successivo spostamento durante il corso del pomeriggio sera verso i settori costieri. I venti saranno deboli e localmente moderati dai quadranti orientali con brezze lungo la costa e il mare risulterà poco mosso. Infine per domenica le temperature saranno in temporaneo lieve aumento nei valori massimi con un clima mite di stampo primaverile o di inizio estate, specie sulle aree pianeggianti dove si potranno raggiungere anche 26-28 gradi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.